Buongiorno a tutti, oggi vi racconto qualcosa che ho scoperto e che ho scritto nel libro nuovo, quello che esce tra domani e dopodomani nelle librerie, vi faccio vedere in anteprima la copertina, anche se un po' schiacciata, si intitola Ad Personam 1994-2010, così destra e sinistra hanno privatizzato la democrazia. Ho scritto il libro quando ho cominciato a leggere, l'avevo già preannunciato in un passaparola all'inizio dell'anno, che le leggi Ad Personam che sta preparando Berlusconi, le quattro, anzi cinque intercettazioni, processo breve o morto, lodo Alfano, bis costituzionale, immunità parlamentare, legittimo impedimento, sarebbero intorno alla ventesima, la diciannovesima di questi quindici anni, in realtà negli elenchi non si tiene mai conto di tutte, ci siamo dimenticati la prima, il decreto Biondi, ci siamo dimenticati tutti quelle che gli ha fatto il centrosinistra e allora sono andato a spulciare e ho visto che in realtà le leggi Ad Personam, nel senso di Personam uguale Silvio Berlusconi, sono state in questi quindici anni, 36, solo quelle già approvate definitivamente, quindi le cinque che vi ho appena detto sono fuori, nel senso che quando saranno leggi anche queste cinque si arriverà alla ragguardevole quota di 41, 41 in quindici anni vuole dire quasi tre all'anno, tenendo conto che Berlusconi in questi quindici anni è governato soltanto per sette e mezzo, otto, mentre gli altri erano gli anni del centrosinistra, quindi se dovessimo calcolare soltanto gli anni in cui lui aveva la maggioranza in Parlamento, dovremmo parlare addirittura di sette per quattro, sette per cinque, sette per sei, sei all'anno e sono una discreta media, in più ce ne sono altre undici che o sono state tentate e non sono riuscite oppure sono lì depositate in Parlamento pronte come colpi in canna ad essere sparate. Poi non ci fermiamo, nel libro io scrivo Ad Personam ma mi occupo anche di tutte le altre leggi AD, di tutte le altre leggi che in questi quindici anni hanno privatizzato la democrazia, invece che occuparsi degli interessi generali dei cittadini, questo è una legge, provvedimento generale e astratto nell'interesse della collettività, invece invece no, si legifera per quello o quell'altro oppure per questa o quell'altra categoria politica, imprenditoriale, mafiosa e quindi infatti ho fatto tutto l'elenco delle leggi ad mafiam, delle leggi ad castam, delle leggi ad aziendas, tutta la Confindustria o ad aziendam, quelle per Mediaset per esempio e siamo arrivati così a un totale di circa 105 leggi che naturalmente sono pure approssimate per difetto, ma danno bene l'idea di che cosa è diventata la Seconda Repubblica, di che cos'è la Seconda Repubblica e cioè una Repubblica ad personam o ad poche personas, paucas personas. Per esempio ci sono anche le leggi ad personam dove la personam non è Berlusconi e queste sono 16, sono state fatte per altre personas, 5 per esempio sono state fatte o ne ha beneficiato Dell'Utri, 3 sono state fatte apposta per mandare Piero Grasso alla Procura nazionale antimafia e impedire che ci andasse Caselli, perché quelle tre leggi sono leggi contra personas, contra personam nel senso di Caselli, ma ad personam in senso di Grasso, 4 leggi per salvare il generale Pollari e i suoi amichetti per le deviazioni del sismi tra dossieraggi illeciti e sequestro di Abu Omar, 2 leggi per salvare gli spioni della Telecom, una legge per salvare Soffri o meglio per cercare di fargli avere la revisione del processo, visto che a Milano gliel'avevano negata, hanno fatto una legge per stabilire che visto che Milano aveva detto di no, allora bisogna andare a Brescia e poi se a Brescia dicevano di no come dissero di no si andava a Venezia e se a Venezia dicevano di no si proseguiva il giro d'Italia, per cui poi si decise di fare il processo di revisione a Venezia, la revisione non funzionò perché fu confermata la condanna e quindi la legge andò vana, ma intanto quella legge era stata approvata da centrodestra e centrosinistra negli stessi giorni in cui si faceva una legge ad personam dell'Utri, nel nostro caso, presentata dallo stesso relatore, il senatore Valentino di Alleanza Nazionale e anche essa votata in maniera bipartisan, quindi fecero una legge pro soffra e una legge pro dell'Utri in contemporanea perché come sempre una mano lava l'altra. Poi ci sono le leggi ad mafiam, sono state 8 in questi 15 anni, 1 ogni 2 anni le leggi pro mafia, sono quasi tutte ispirate o addirittura copiate dal papello di Totò Riina che insieme al piano di rinascita democratica di Gelli e a un memorandum che ho indicato nel libro, scritto da Berlusconi e mandato ai giornali del suo gruppo nel 1993, segnano un po' quella che è la Costituzione materiale dell'Italia, il piano della P2, il memorandum di Berlusconi e il papello di Totò Riina sono i tre fari della politica legislativa di questa Seconda Repubblica, con analogie impressionanti. Poi ci sono le leggi ad personas fatte per ampie delle categorie di personas, soprattutto per salvare dai processi il ceto politico e gli imprenditori retrostanti, queste sono 18, praticamente più di una all'anno, più 7 che non sono riusciti ad approvare ma hanno tentato. Poi ci sono le leggi ad castam per proteggere la casta dei politici e dopo vi farò un esempio, un'anteprima. Poi ci sono le leggi ad aziendas, quelle appunto per la Confindustria e poi ci sono quelle contra Justitiam che sono una messe praticamente interminabile. Pensate, quando voi sentite parlare qualche politico che dice che bisogna riformare la giustizia, dovete sapere che in questi 15 anni di Seconda Repubblica riforme della giustizia ne sono state fatte circa 180-200. In 15 anni vuole dire dalle 10 alle 15 all'anno, più di una al mese, uno dice e vogliono riformarla ancora la giustizia, forse farebbero meglio lasciarla in pace, se si astenessero da riformarla può darsi che la giustizia si riprenda, riprenda un po' di colorito, il problema è che continuano a riformarla e ogni volta che facevano queste quasi duecento leggi in materia di giustizia, ci raccontavano che le facevano, per abbreviare i tempi della giustizia, ogni volta i tempi aumentavano. Nel 1999, 11 anni fa, il processo penale durava in media 1.457 giorni, il che vuole dire quattro anni. Nel 2000 era salito a 1.652 giorni dopo le riforme del centro-sinistra, poi è arrivato Berlusconi e nel 2003 il processo durava 1.805 giorni. Oggi siamo nel 2010, non sappiamo quanto duri esattamente un processo penale in media perché hanno smesso di contarli per disperazione, vista la progressione noi dovremmo pensare che sicuramente duri molto più di 2.000 giorni, parliamo della media, anche dei processetti del cavolo, anche loro fanno media. Ogni anno abbiamo 180.000 prescrizioni, che sono 465 prescrizioni al giorno, cioè 465 reati che vengono commessi ogni giorno e che non verranno puniti a causa della prescrizione. Questo è il risultato di 200 riforme della giustizia fatte dalla destra o dalla sinistra o, per lo più, dalla destra e dalla sinistra, messe insieme. Voi capite? La casta ci guadagna, noi meno. La tassa occulta che pagano gli italiani solo per la lungaggine dei tempi della giustizia penale e civile porta via ogni anno 2,2 miliardi di Euro, la metà di quello che dicono di voler incassare con lo scudo fiscale. Si potrebbe ottenere una cifra analoga facendo funzionare la giustizia, cioè facendo una legge di illegalità anzi che di illegalità con lo scudo fiscale. E poi c'è il costo della corruzione che, come sapete, in Italia è di 40 miliardi l'anno per la Banca Mondiale e di 60 miliardi l'anno per la Corte dei Conti. Facciamo buon prezzo, buon peso, 50 e un bacio sopra? Stiamo parlando di 50 miliardi di Euro all'anno, 100 mila miliardi di vecchie lire, il decuplo rispetto a quello che costava, secondo l'economista Mario De Aglio, la corruzione quando scoppiò lo scandalo di Tangentopoli. In meno di vent'anni siamo riusciti a decuplicare i costi della corruzione. Poi vi anticipo un capitolo, ed è il capitolo che riguarda i finanziamenti ai partiti. Perché vi anticipo questo? Perché è molto di attualità. Voi sentite dire che non c'è un'altra cosa che sta esplorando al periodo dei cattori, ai cattori e ai tropici, oppure qualche escort, tutto rimane nel perimetro del suo privato. Se invece uno, dopo aver preso la tangente, in cambio di un affare illecito, quella tangente la utilizza per fare carriera in un partito, comprando tessere fasulle oppure portando soldi in nero a quel partito per costituirsi un merito in cambio di una candidatura, altera anche le regole democratiche all'interno di quel partito, avvantaggiandosi su coloro che non rubano e quindi peggiora anche la qualità della democrazia interna ed esterna, oltre ad avere preso dei soldi in cambio di un atto illecito o scorretto. Quindi rubare per il partito è molto più grave che rubare per sé dal punto di vista dell'interesse generale, ma in ogni caso è vero che oggi sono più numerosi i casi di tangenti per arricchimento del singolo rispetto al 1992-1993 dove vennero fuori molti casi di persone che magari facevano la cresta sulla tangente e quindi una parte se la mettevano in tasca, ma comunque facevano parte di un sistema criminale di massa, finalizzato a portare una specie di oleodotto ininterrotto di soldi che dalle imprese in cambio di appalti truccati, abolizione della libera concorrenza, confluiva nelle casse dei partiti perché i partiti per ipocrisia, per non sfidare l'ira dei cittadini, si auto-assegnavano dei finanziamenti pubblici che non bastavano per mantenere i apparati elefantiaci che avevano messo in piedi e quindi anziché alzare la quota del finanziamento pubblico per paura che la gente li linciasse, lo tenevano basso sulla carta e poi rubavano, integrando con le tangenti. Adesso effettivamente questa necessità i partiti non ce l'hanno perché oggi spudoratamente, destra e sinistra, dato che oggi non c'è più opposizione, né quando governa il centro-sinistra, né quando governa il centro-destra su queste questioni di casta, i partiti si auto-assegnano una barcata talmente enorme di denaro pubblico che poi non sanno cosa farsene, quindi navigano nell'oro, incassano, ma lo vedremo, circa il quadruplo di quello che spendono. La storia della legge sul finanziamento pubblico dei partiti nasce nel 1974, anzi nel 1973 quando a Genova i pretori scoprono che il Parlamento è a libro paga dei petrolieri e quindi il Parlamento vota leggi fiscali di favore per l'Unione petrolifera e l'Unione petrolifera a seconda di quanti soldi risparmia da queste leggi fiscali di favore devolve una percentuale di quel risparmio ai partiti, praticamente si compra il Parlamento ogni anno per avere sgravi fiscali, così i cittadini pagano più tasse per coprire quelli che non pagano più i petrolieri, i partiti incassano la loro tangente e sono tutti contenti tranne Pantalone che alla fine paga. Questo scandalo fa molto scalpore, all'epoca gli scandali facevano molto scalpore e i politici per cercare di recuperare un minimo di credibilità che cosa fanno? Una legge severa sul finanziamento dei partiti, stabiliscono che i partiti possono prendere denaro pubblico, prima prendevano soltanto denaro da privati, possono prendere una quota di finanziamento pubblico e poi possono pure continuare a prendere soldi da privati, purché naturalmente l'azienda che dà il finanziamento al partito o al politico metta a bilancio quel finanziamento, altrimenti è ovvio, se un imprenditore deruba le casse della sua azienda e porta via dei soldi per darli a chi vuole lui, commette reato di appropriazione in debita, falso in bilancio ed evasione fiscale, perché poi su quel nero non paga le tasse. Quindi le imprese che finanziano politici o partiti dovevano, devono, che è ancora in vigore questa legge, sia pure un po' ritoccata nell'81 e in altre epoche, devono mettere a bilancio questi finanziamenti e i partiti a loro volta devono presentare ogni anno una dichiarazione con l'elenco di tutti i contributi privati che ricevono dalle imprese, possono riceverli da qualunque impresa, salvo che sia un'impresa pubblica, un'impresa pubblica finanziata con denaro pubblico non può finanziare i partiti, invece i partiti dopo aver approvato questa legge continuarono a prendere i soldi dalle imprese private in nero perché non erano finanziamenti a un partito, erano tangenti che gli imprenditori pagavano prima in vista di favori che avrebbero avuto dopo oppure pagavano dopo in cambio di favori che avevano avuto prima, erano tangenti mascherate da finanziamenti illegali. Questa legge è stata violata quindi per quasi vent'anni finché nel 1992 è esploso lo scandalo di Tangentopoli, erano i partiti che avevano fatto una legge e poi avevano cominciato subito dopo a violarla per farsi belli davanti ai cittadini, l'avevano fatta questa legge. Lo scandalo fu enorme, i partiti ancora una volta di fronte all'ira popolare, si tagliarono in qualche modo gli attributi, rinunciarono all'autorizzazione a procedere per le indagini, rinunciarono all'immunità a maggioranza semplice, scusate, all'amnistia o agli indulti a maggioranza semplice, all'epoca bastava avere il 51% per fare l'amnistia o l'indulto, nel 1993 la maggioranza fu portata ai due terzi e da allora fino all'arrivo di Mastella non fu parata più nessun provvedimento di clemenza, di solito ogni 3-4 anni facevano un indulto o un'amnistia, salvavano tutti e ricominciavano. Infine fu abolito, grazie al referendum popolare del 1993, 18 aprile 1993, referendum dei radicali, fu abolito il finanziamento pubblico dei partiti, il 90,3% degli italiani dissero noi non vogliamo più che i partiti prendano una lira di denaro pubblico, sarà giusto, sarà sbagliato, questo hanno stabilito i cittadini italiani, i referendum vanno rispettati, invece subito dopo, governo Ciampi morente, fine del 1993, vigilia dello scioglimento delle camere da parte di Scalfaro in vista delle elezioni politiche del marzo 1994, quelle che poi Berlusconi vinse per la prima volta, il governo Ciampi morente fece una leggina che consentiva ai partiti di far entrare dalla finestra il finanziamento pubblico che il referendum aveva appena scacciato dalla porta, cambiarono il nome al finanziamento pubblico e lo chiamarono rimborso per le spese elettorali, era una norma, anche se tradiva il senso del referendum, a giudicare poi da quello che succede oggi, abbastanza accettabile o meno inaccettabile, prevedeva che ogni cittadino residente in Italia contribuisse alle spese delle campagne elettorali dei partiti, solo dei partiti che superavano il 3%, se prendevano meno non avevano diritto a rimborsi, pro capite con 800 lire a testa ogni anno, per ciascuna delle due camere, quindi erano 1600 lire pro capite per ogni cittadino residente in Italia, già allora si scoprì che era troppo, perché? Perché poi i partiti alle elezioni del 1994 spesero 36 milioni di Euro, facciamo già i calcoli in Euro, mentre avevano incassato il doppio, quindi già il rimborso era molto largo rispetto alle spese effettivamente sostenute e del resto se hai un rimborso, cos'è un rimborso? Tu spendi, mi dai la ricevuta e io ti do l'importo equivalente, non è che prima ti fai dare dei soldi pensando che più o meno spenderai tot e poi te li tieni anche se hai speso soltanto la metà, quello non è un rimborso, quello è una truffa, quindi la legge era già una truffa, perché dava i soldi prima presuntivamente rispetto a spese che non erano ancora state sostenute e che poi si sono sempre rivelate inferiori rispetto all'importo del rimborso, ma i partiti non si accontentano e continuano ad assaltare la diligenza, nel 1997, maggioranza di centrosinistra, il Parlamento, ma anche con i voti del centrodestra tutti insieme appassionatamente, tranne i radicali, voi dovete sempre tenere fuori i radicali e da quando ci sono i dipietristi, perché hanno sempre cercato di mettere un freno a questo andazzo, anche se poi ovviamente hanno ricevuto anche loro i finanziamenti pubblici, hanno cercato di modificarli, ma si sono sempre trovati in minoranza. Il 1997, gennaio, il Parlamento dell'Olivo con i voti del Polo approva un'altra legge che dice facciamo che gli italiani devono scegliere se dare o no i contributi ai partiti, devono devolvere, possono devolvere ai partiti il 4 per mille dell'Irpef, il denaro raccolto va a creare un fondo, questo fondo se lo dividono i partiti in base al loro peso elettorale e così solo i cittadini che vogliono finanziare i partiti lo possono fare con una parte delle loro tasse. Naturalmente i cittadini versano in pochissimi questo 4 per mille e comunque l'importo versato dai cittadini non è mai stato comunicato ufficialmente, dovevano essere veramente 4 soldi. I partiti rischiano la banca rotta e quindi tornano immediatamente indietro e cosa fa? Visco anticipa subito ai partiti a spese nostre, 160 miliardi per il 1997 e 110 miliardi per il 1998 ai partiti perché altrimenti quelli sono in banca rotta, avevano fatto un po' di spese a babbo morto, pensando che i cittadini gioiosamente andassero a versare, in realtà non avevano versato. Naturalmente il centrodestra che ce l'aveva con Visco anche quando respirava, questa volta Zitti e Mosca intascano pure la loro parte. Si decide di tornare alla vecchia truffa del rimborso elettorale che poi è un finanziamento pubblico camuffato, cioè il finanziamento diretto, i cittadini contribuiscono sia che vogliano sia che non vogliano, lo Stato paga. Nel 1999 passa la nuova legge che archivia l'esperimento del 4 per mille senza nessun dibattito sul perché i cittadini non vogliono dare i soldi ai partiti, niente, fanno tutto alla chetichella di notte, di nascosto, si torna ai rimborsi elettorali e qui, sempre in anticipo naturalmente, si decide di dare un Euro per ogni cittadino iscritto alle liste elettorali, ma non un Euro, una tantum, scusate, non un Euro per tutte le elezioni, eh no, un Euro per le elezioni alla Camera, un Euro per le elezioni al Senato, un Euro per i consigli regionali e un Euro per le elezioni del Parlamento europeo. Quindi per tutta la legislatura i partiti hanno diritto a 4 Euro per ogni cittadino. In più si decide di abbassare il quorum per i partiti che ottengono il rimborso, prima era 3%, adesso diventa l'1%, basta prendere l'1% dei voti per avere diritto a entrare nella spartizione della torta. Così le liste i partiti hanno tutto l'interesse a moltiplicarsi invece di compattarsi e quindi diventano decine e decine perché tanto più sono più prendono, cioè non hai più bisogno di avere almeno 3% dei voti, basta l'1% e quindi si polverizzano per andare a incassare i soldi. I rimborsi vengono usati solo in minima parte per le campagne elettorale che costano molto meno di quanto non venga rimborsato, servono a mantenere le strutture elefantiache dei partiti che si sono ricostruite in barba al referendum, che invece proprio su questo era intransigente. Surplus di ipocrisia, i partiti promettono che se gli anticipi poi superano le spese effettivamente sostenute, le somme in sovrappiù verranno restituite entro 5 anni, a rate 20% all'anno, ma il decreto per regolamentare questo conguaglio non viene mai varato e quindi i soldi non vengono mai restituiti. In pochi mesi i tesorieri dei partiti decidono una modifica legislativa che ritocca addirittura verso l'alto l'importo del rimborso e cosa è successo? E' entrato in vigore l'Euro e quindi dagli 800 lire della prima legge hanno deciso di farsi il cambio alla pari, un Euro per ogni cittadino, invece di 800 lire e un Euro, praticamente hanno quasi triplicato l'importo l'importo che ogni cittadino deve per ogni elezione e non contenti fanno addirittura un'altra legge che impone di passare a 2 Euro per ogni elettore, per ogni Camera, più elezioni europee e più regionali. Quindi c'è praticamente che ogni cittadino deve pagare 2 per 4, 8 Euro a legislatura, nel 2001 così facendo le forze politiche incassano addirittura 92 milioni di Euro, sono 200 miliardi di vecchie lire. Ultima fase, nel 2001 abbiamo detto 92 milioni milioni di Euro per i partiti, che hanno speso per le elezioni del 1996 un quarto di questi 92 milioni, cioè le ultime elezioni, quelle del 1996, avevano speso un quarto, alle successive elezioni si attribuiscono il quadruplo e i soldi non bastano mai, perché nel 2002, una volta rieletto Berlusconi dal Consiglio, siamo nella legislatura che Berlusconi ha fatto tutta intera dal 2001 al 2006, mentre i partiti si scontrano in Parlamento e in piazza sulle leggi ad personam etc., di nascosto passa un'altra leggina bipartisan con firme di centro-destra dove viene approvato, come vi dicevo prima, il cambio da 800 lire a 1 Euro per ogni elettore e poi si passa ai 2 Euro per ogni elettore. C'è un'altra furbata, gli elettori a cui prendere i soldi non vengono calcolati in base a quelli che votano, ma vengono calcolati sugli iscritti alle liste elettorali, si dirà quelle della Camera per la Camera, quelle del Senato per il Senato? No, quelle della Camera sia per la Camera sia per il Senato, perché? Perché al Senato vanno a votare meno persone, in quanto c'è un'età superiore dell'elettore minimo del Senato e quindi alle elezioni del Senato gli elettori sono 4 milioni in meno, quindi per il Senato i partiti prenderebbero dei soldi in meno, invece anche per il Senato il rimborso si calcola sugli iscritti alle liste elettorali della Camera. Dopodiché, abbiamo detto, nel 1994 le elezioni erano costate 36 milioni, quelle del 1996 erano costate 20 milioni, quelle del 2008 riusciranno a costare addirittura 136 milioni di Euro, eppure i partiti nei cinque anni successivi riceveranno 500 milioni, cioè praticamente 10 Euro per ogni elettore, guadagnando il 270% netto rispetto alle spese davvero sostenute e, come vi ho detto, per intascare questi rimborsi bisogna avere un minimo dell'1% di voti, quindi rientrano quasi tutti i partiti, anche quelli che non riescono a entrare in Parlamento, visto che in Parlamento comunque ci vuole un certo quorum che è a volte del 4, a volte addirittura superiore al percento. Se poi uno non fa nemmeno l'1%, i suoi soldi non è che vanno sprecati, se li dividono gli altri partiti. Ultima chicca, la nuova norma assicura la copertura di tutti i cinque anni di legislatura anche nel caso in cui la legislatura non dura i cinque anni, ma si interrompa con la caduta anticipata del governo e le elezioni anticipate. Per esempio quello che succede nel 2006-2008, la legislatura dell'Ulivo col governo Prodi numero due dura soltanto due anni, poi Prodi cade e si riva alle elezioni nell'aprile del 2008. Quella legislatura è durata due anni, ma i partiti incassano i rimborsi elettorali per tutti e cinque gli anni, li stanno ancora incassando adesso, 2006-2011, finiranno di incassarli l'anno prossimo, cumulando tra il 2008 e il 2011 sia i finanziamenti per la legislatura virtuale 2006-2011, sia quelli per la legislatura effettivamente in vigore 2008-2013. Ci sono degli anni in cui prendono addirittura il rimborso doppio per risarcirsi di una legislatura che non c'è mai stata, perché è finita con tre anni d'anticipo e quindi non ha comportato le spese previste dalla legge e così di aumento in aumento, di ritocco in ritocco, nel 2006 il totale dei rimborsi elettorali raggiunge la cifra record di 200 milioni di Euro, più del doppio dei 93 milioni che avevano incamerato alle elezioni precedenti, quelli del 2001 e quindi se nel 1993 ogni italiano versava, per fare un po' le somme finali, ogni anno un italiano versava ai partiti, nel 1993 quando fecero la leggina Ciampi, 1,1 Euro all'anno, nel 2006 ne ha sborsati 10 e pochi mesi fa, alla vigilia di Natale, la Corte dei Conti ha calcolato che nei 15 anni della storia della Seconda Repubblica i partiti hanno prelevato dalle casse dello Stato 2 miliardi e 200 milioni di Euro, 4.500 miliardi di vecchie lire. Non so se mi sono spiegato, ma stiamo parlando di una truffa legalizzata ai danni dei cittadini a cui si è poi aggiunto una cosa che nessuno sa e cioè che nel febbraio del 2006, mentre stava morendo la legislatura del governo Berlusconi 2 e stava per arrivare il governo in fretta e furia i partiti fecero una norma che alzava il tetto sopra il quale i partiti devono dichiarare da chi prendono i soldi. Questo tetto era di 5 mila Euro, 10 milioni di vecchie lire, se uno riceveva un finanziamento di sotto i 10 milioni di vecchie lire, sotto i 5 mila Euro non era obbligato a dichiararlo nella dichiarazione pubblica alla Camera dei Finanziatori, se invece superava quella soglia doveva dichiararlo, altrimenti era un finanziamento illecito se veniva scoperto. Hanno alzato da 5 a 50 mila Euro questa soglia, quindi dal 2006 un politico o un partito che ricevono dei soldi in nero da un'azienda, in cambio di di cosa non lo sapremo mai, non sono nemmeno obbligati a dichiararli e quindi si è creata una gigantesca area di franchigia che consente a ogni singolo politico di intascare ogni anno fino a 50 mila Euro in nero e con 50 mila Euro in nero naturalmente ce ne ha sufficienza per farsi pagare la campagna elettorale da qualcuno che non vuole comparire, in cambio naturalmente di qualcosa, senza nemmeno il rischio che il magistrato possa chiederti chi ti ha dato quei soldi perché non è più reato, hanno istituito dopo la modica quantità di falso in bilancio e la modica quantità di evasione fiscale, due leggi ad personas e ad custom che ho raccontato nel libro, una fatta da Berlusconi e l'altra fatta dal governo Amato con la depenalizzazione dell'utilizzo di false fatture sotto una certa soglia, adesso hanno istituito la tangente da 4 anni e in vigore la tangente legalizzata in modica quantità, basta rubare un tot non superiore a 50 mila Euro all'anno e non rischi più di finire in galera e nemmeno sotto inchiesta, la modica quantità per uso personale, come si direbbe in linguaggio di legge sulla droga. Dato che oggi si sente parlare di fare delle leggi anticorruzione, bisognerebbe chiedere chi le ha fatte tutte queste leggi pro corruzione, sono le stesse persone. Passate parola e buona settimana!